Kienergy 2024, numerosissime le aziende presenti che credono nella transizione energetica e noi di rinnovabili non potevamo mancare. Siamo con Alessandra Toschi, CEO di Baiva, chi meglio di lei può raccontarci quale sarà la strategia aziendale nell'immediato e prossimo futuro nel mercato italiano? Grazie, la nostra strategia è quella di investire sviluppando progetti da fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico unitamente agli accumuli e progetti di buona qualità. Noi puntiamo soprattutto su questo per avere dei buoni risultati da un punto di vista autorizzativo. Sappiamo che entrare sui territori è complicato, quindi cerchiamo di porci al territorio nella maniera migliore, con grande competenza e affidabilità. Questa è la nostra strategia, unitamente al fatto che stiamo appunto portando avanti progetti sia eolici onshore, offshore, sia fotovoltaici a terra, floating e agri PV. Perfetto, grazie mille. Sarei qua a voi.